Chi è la nuova fidanzata di Ken Yaman? Proprio così, il famoso e amatissimo attore turco non è più single, e dopo l'esperienza fallimentare con Diletta Leotta ora sembra aver ritrovato l'amore. E attenzione, perché anche questa volta l'attore di, Viola come il mare, sembra aver perso la testa per un'italiana. Ma chi è, beh, stavolta sappiamo persino il nome. Ken Yaman si è innamorato di un'italiana che si chiama Giorgia Colombo. Ma attenzione, perché di lei si sa poco e niente visto che non fa parte del mondo dello showbiz. Tuttavia da quel poco che è emerso si sa che Giorgia Colombo è nata il 16 agosto a Milano e che ha un buon seguito sui social. A parte questo niente più, a divulgare la notizia alcuni magazine rosa, ma soprattutto dal diretto interessato. I due poi sarebbero stati intravisti tra le vie di Milano in atteggiamenti molto intimi. E chi dice che si tratta di una sbandata recente? Qualcuno afferma il contrario. Sembra infatti che Ken Yaman e Giorgia Colombo si stiano frequentando ben da dicembre 2022. Chi è la nuova fidanzata di Ken Yaman? Eppure, se non fosse vero, l'attore turco sarebbe il primo a smentire. Come dimenticare quella volta che i giornali lodavano tra le braccia della bella Demet Osdemir o con la collega di Viola come il mare, Francesca Chillemi. Quando accadde Ken Yaman fece di tutto per dimostrare che erano solo delle bufale. E adesso? Niente di nuovo sul fronte occidentale. Nessuna smentita. Solo un clamoroso silenzio. Ha senso? In questo periodo Ken Yaman, è in tournee con il suo, Break the Wall Tour. Un sistema che cerca di aiutare i giovani a superare i problemi psichici sorti come conseguenza dello scoppio della pandemia da Covid-19. Ma non è finita. Perché per la gioia delle fan italiane, l'attore turco a luglio tornerà a Palermo per iniziare le riprese della seconda stagione della fiction di Canale 5, Viola come il mare. Dopo tutte le sue storie, la prima con Acehla Topaloglu, con la quale ha recitato insieme nella soap turca in Adina Ask, dal 2015 al 2016. Quella con Bestem Suozdemir, con la quale è stato per otto mesi e infine con Diletta Leotta. Ora Ken Yaman sembra aver messo le idee a posto con Giorgia.